Pratico uno sport per disabili, che è il basket in carrozzina. E' lo sport che faccio, mi piace veramente tanto. Adesso sono entrata proprio in un altro mondo di condivisione di tante vite, di persone diverse. E quindi oggi sono veramente contenta di quello che faccio. Parto per questa esperienza con l'idea di condividere con loro delle esperienze di vita. Ci saranno diverse disabilità, quindi voglio provarci e come andrà sarà sicuramente un successo.